avviciniamo i due lembi di stagno vicini qua queste due palline in modo da creare una piccola distanza in aria ho tolto la limitazione in corrente quindi fino al massimo previsto 3 ampere e adesso andiamo su in tensione un volt due volt tre volte ecco già 4 volt ecco che comincia la nostra scarichina 5 volt un ampere uno quindi potenza abbastanza bassa vedete che con una tensione così bassa in alimentazione siamo già in grado di realizzare la nostra scarica ciao a tutti e benvenuti in laboratorio come sempre prima di iniziare un saluto a due nuovi sostenitori del programma patreon ciao e grazie a luigi a dario e a io come lo faccio dell'omonimo canale youtube nell'episodio di oggi ci occupiamo di dispositivi al carburo di silicio che è un materiale molto interessante perché permette a questi dispositivi di poter operare con una potenza veramente elevata sopportare elevate temperature alti rendimenti alte frequenze il tutto in un volume molto ridotto e quindi risulta essere molto appetibile appunto in applicazioni di potenza come sempre avremo una prima parte teorica che fa vedere quali sono le differenze di questa tecnologia rispetto al silicio classico e per quali motivo è così performante e una seconda parte con dei test con dei dispositivi di diverso fornitore con test sia statici che dinamici e avremo un finale con fuochi d'artificio proprio perché sfrutterò la caratteristica di tenere alte tensioni per pilotare una scarica elettrica detto questo vi auguro una buona visione ciao per capire i vantaggi della tecnologia sic carburo di silicio mettiamo a confronto due mosfet di tipo n uno al silicio tradizionale e uno al carburo di silicio ho scelto la struttura per dispositivi di potenza quindi che si sviluppano in verticale infatti abbiamo tipicamente il drain qui sotto con la sua metallizzazione substrato al silicio le due zone dove si crea il source con la contattazione e metallizzazione e infine il sottile strato di ossido che è il gate questi tre terminali gate source drain fanno capo questo simbolo dove riconosciamo anche il diodo in antiparallelo posizionato fra source e drain nell'equivalente carburo di silicio la struttura verticale è esattamente identica con due grosse differenze il substrato appunto è in carburo di silicio un materiale che offre notevoli caratteristiche e lo vedremo dopo per la gestione di potenza e inoltre abbiamo una riduzione di un fattore 10 sulle dimensioni quindi è un dispositivo che a parità di condizioni risulta essere molto più compatto vediamo le tre caratteristiche tecnologiche principali che rendono migliore del silicio in queste applicazioni la prima è la banda proibita più estesa la banda proibita è l'energia che serve per passare a un elettrone dalla banda di valenza a quella di conduzione per intenderci nei conduttori questa è molto piccola negli isolanti è enorme nei semiconduttori varia a seconda dello stato del dispositivo in particolare quando il mosfet è spento questa banda è molto elevata e significa che il mosfet sopporta delle tensioni elevatissime in termini di numeri abbiamo 3,6 elettron volt per il carburo di silicio contro 1,12 elettron volt per il silicio quindi tre volte superiore inoltre anche la gestione di alte temperature è possibile con una banda proibita più estesa un'altra proprietà fondamentale del SIC riguarda gli elettroni in particolare sebbene abbiano una mobilità più bassa gli elettroni nel carburo rispetto al silicio un centimetro quadro volt secondo rispetto a 1,4 del silicio in realtà gli elettroni riescono a raggiungere velocità massime superiori infatti la velocità di saturazione che è proprio la massima velocità che un elettrone riesce a raggiungere all'interno del reticolo è molto più alta per i SIC più del doppio 2,7 per 10 alla centimetri sul secondo per il SIC rispetto a 1 per 10 alla 7 per il silicio questo si traduce in una capacità di gestire alte frequenze in commutazione in maniera migliore rispetto al silicio quindi i SIC oltre a gestire maggior potenza riescono a essere da un punto di vista dinamico molto più performanti infine il materiale carburo di silicio ha una conducibilità termica superiore a quella del silicio infatti possiamo avere un k per il SIC di 500 watt su metro kelvin circa tre volte quella tipica del silicio di 150 watt su metro kelvin significa che a parità di potenza dissipata il SIC è in grado di dissipare il calore con un'efficienza tre volte superiore questo ci porta ad avere dispositivi decisamente più compatti a parità di potenza in conclusione il carburo di silicio quindi ci permette di avere maggior potenza temperature di giunzione più elevate frequenze di commutazione più elevate rds on più basse quindi è la resistenza che si ha in conduzione e di conseguenza una maggiore efficienza per i nostri test utilizzerò dei mosfet SIC che ho preso a un evento che c'è stato prima dell'estate qui a bologna sponsorizzato da infineon abbiamo diversi dispositivi in package to 247 quindi anche facili da gestire e inoltre mi sono fatto mandare una campionatura sempre da infineon di altri dispositivi così potremo metterli a confronto nelle misure diamo un'occhiata veloce ai datasheet dopo vedremo questo imz120 che è un mosfet SIC della infineon tecnologia cool sick tensione di breakdown 1200 volt corrente di drain 56 ampere sotto le condizioni di test indicate temperatura 25 gradi vediamo anche come è caratterizzata questa corrente in pratica dipende dalla rds on la corrente di drain appunto a 25 gradi 56 ampere a 100 gradi di temperatura di case 45 ampere la corrente invece per il diodo integrato 56 ampere sempre a 25 gradi di case la potenza dissipata totale 227 watt sempre 25 gradi ecco la rds on che è definita in base a questa tv j che sarebbe la temperatura di giunzione virtuale vediamo che questa temperatura può arrivare fino a 175 gradi in questo caso la resistenza rds on è specificata con 57 million veramente bassa considerate che è un mosfet che tiene 1200 volt tensione in diretta del diodo circa 4 volt tensione di accensione la soglia è a 4 volte e mezzo circa ma si raccomanda ovviamente di pilotarli molto accesi e quindi con una vgs compresa fra i 15 e 18 volt caratteristiche dinamiche notiamo che i parametri di capacità di ingresso di uscita e fra i terminali hanno valori decisamente bassi quantità di carica totale qg 63 nano coulomb i tempi di switching tipici td quindi il turn on time 7,7 nano secondi dispositivi veramente veloci caratteristiche del diodo integrato qrr 320 nano coulomb quindi anche il reverse recovery del diodo è abbastanza veloce per fare un paragone ho preso un mosfet della ixis a silicio normale tecnologia hyperfet 1200 volt stessa tensione di breakdown la corrente è battezzata 30 ampere ma la rds on vedete che è 350 millio quindi un ordine di grandezza in più rispetto al sic se osserviamo i parametri dinamici anche le capacità vedete che sono decisamente più importanti la c iss addirittura 22,5 nano farad un ordine di grandezza in più rispetto a prima questo si riflette ovviamente anche sulle caratteristiche dinamiche il td in questo caso è 57 nanosecondi contro i 7 che abbiamo visto prima un appunto sul package utilizzato da questo mosfet sic della infineon è un to 247 trattino 4 a quattro terminali infatti oltre ai classici drain gate source integra anche un pin di sens il numero 3 ed è un terminale per la kelvin connection questo articolo della toshiba spiega bene il concetto della connessione kelvin che è generico se vogliamo fare delle misure in alta corrente ad esempio vogliamo verificare il valore della resistenza di un resistore utilizzando delle forti correnti e abbiamo voltmetro che misura la caduta di tensione ai capi del resistore vedremo anche la caduta di tensione sul collegamento sul cavo che è indicata con questa r piccolo per ovviare a questo problema si possono separare i cammini di potenza e segnale con una connessione kelvin dunque il nostro generatore di corrente inietterà corrente sul ramo superiore con la resistenza del cavo la misura verrà effettuata invece con un altro terminale e avrà una resistenza r primo questa siccome è una connessione di sensing avrà zero caduta non circola corrente di potenza qui sopra e quindi la misura sarà attendibile lo stesso concetto lo si può applicare anche ai mosfet infatti sappiamo che in serie al source del mosfet è presente un'induttanza abbastanza importante se la corrente è elevata questa induttanza oltre che a rischiare di riaccendere il mosfet perturba proprio il controllo ecco che se allora invece di avere i tre terminali classici introduciamo un quarto terminale in questa figura chiamato source 2 possiamo controllare il nostro mosfet tramite il terminale gate e source 2 e far portare la potenza al terminale di source 1 unitamente al drain ovviamente ecco che quando andiamo su queste applicazioni ad alta potenza la connessione kelvin diventa indispensabile proprio per non avere questo tipo di problemi per misurare la rds on del nostro mosfet utilizzeremo questo schema di misura che può essere anche molto utile per identificare i transistor fake forzeremo una corrente con un generatore di corrente regolabile da 0 a 5 ampere dopo vedremo lo schema misuriamo la corrente che scorre e la tensione ai capi del mosfet la vds facendo il rapporto vds diviso id a diverse polarizzazioni di vgs e diverse temperature del case potremmo stabilire la rds on appunto come varia secondo questi due parametri per impostare la vgs un generatore di tensione esterno da 0 a 20 volt per misurare la temperatura termocoppia con astro captain direttamente sul case per misurare la vds un altro voltmetro come generatore di corrente utilizzo questo kit già visto nel video 836 e lo avevamo visto per misurare il valore di induttanza di alcuni induttori in presenza di corrente continua quindi di dc bias ecco il nostro setup di misura generatore di corrente con ventola perché questo scalderà parecchio alimentato da questo alimentatore il nostro sic mosfet è qui sotto il dissipatore questo multimetro è un amperometro in serie in continua così avremo esattamente la misura della corrente di fatti non posso utilizzare l'amperometro di questo strumento sentirebbe anche la corrente della ventola e quella di standby di questo oggetto su questo multimetro avremo la temperatura del case e infine la vds direttamente qua su questo multimetro facendo il rapporto di questa tensione vds diviso questa corrente id avremo esattamente il valore di rds on infine questo alimentatore è quello che mi permette di gestire la vgs da 0 a appunto 18 volt partiamo mosfet spento tensione sui capi 12 volt corrente 0 cominciamo ad accenderlo fornendo una tensione fra gate e source partiamo da 1 volt andiamo su sopra la soglia ecco che il mosfet si accende qua siamo a 8 volt mezzo ampere vedete che la tensione comincia a calare bisogna considerare anche che passiamo per la zona lineare quindi come se fosse una resistenza aumentiamo la polarizzazione del mosfet a 10 volt e andiamo con un corrente a un ampere con 10 volt di vgs abbiamo un volt un ampere e quindi un ohm resistenza rds on siamo ancora in zona lineare aumentiamo la polarizzazione del nostro mosfet vedete che cala la vds ci portiamo a 18 volt di vgs questa è la rds on quindi 305 millivolt diviso un ampere sono 305 millio m di rds on andiamo a 2 ampere 2 ampere 624 millivolt 3 ampere 990 millivolt 4 ampere un volte 4 5 ampere 2 volt di vds quindi circa 400 millio m di rds on e vedete che la temperatura sta cominciando a salire molto lentamente dopo 15 minuti di funzionamento la temperatura si è bloccata praticamente a 42 gradi con 5 ampere continui mostrava sempre 400 millio m di resistenza rds on durante le prove ho osservato una rds on di circa 350 millio m ma con una corrente di polarizzazione di 5 ampere a data sheet la rds on è inferiore e viene caratterizzata però con una corrente di drain di 25 ampere inoltre le mie prove prevedevano una vds abbastanza bassa di 12 volt quindi siamo in una zona di lavoro che non è quella del data sheet ripeto la prova con un altro campione sempre dello stesso modello di sic ho aumentato il dissipatore qua del generatore in corrente e alzato la ventola per tenere un po più fresco visto che comunque questo generatore anch'esso dissipa una bella potenza anche questo secondo esemplare mostra caratteristiche simili ricordiamoci che non è dissipato 383 millio m di resistenza rds on infatti siamo con 382 millivolt su un ampere mettiamo ora sotto test quest'altro sic questo im y h 200 r 0 che è un 2000 volt di tensione di breakdown 60 ampere nominale di corrente di drain una rds on di caso peggiore solo 36 milio a 175 gradi di giunzione il package è un to 247 4 plus effettivamente vedete che a questa specie di sagoma ricordiamo che deve tenere alte tensioni la cosa interessante è che i pin di potenza il drain e il source hanno effettivamente più materiale i pin di segnale il gate qua sul 4 e il terminale kelvin qua sul 3 per accenderlo e spegnero sono più piccoli stesso identico setup di prima non l'ho dissipato teniamo sotto controllo le grandezze mi trovo circa un ampere leggo 150 millivolt e quindi la resistenza rds on è praticamente la metà di quell'altro 150 millio di resistenza rds on package solo 22 gradi andiamo su con la corrente 2 ampere 299 quindi confermiamo i 150 millio 3 ampere 451 perfetto 4 ampere 615 millivolt 5 ampere 773 millivolt temperatura sempre bassa 27 gradi mettiamo sotto test ora un mosfet silicio classico un toshiba k 261 1 che ha un 900 volt alta tensione corrente di drain 9 ampere rds on 1,4 di caso peggiore quindi con la temperatura di giunzione 150 gradi è sicuramente più bassa degli equivalenti sic ho collegato il mosfet al contrario sull'altro lato perché i terminali questa volta sono gate drain source prendiamo sempre la temperatura sul case con la termocoppia e nastro captain corrente di un ampere 1,1 volt quindi 1,1 home di rds on esattamente come da data sheet 21.9 gradi il case saliamo con la corrente 2 ampere 2.4 quindi 1,2 home 3 ampere 4,3 volt non riesco a impostare una corrente superiore proprio perché la caduta di tensione troppo elevata e quindi il mio generatore di corrente con 12 volt non riesce a forzare una corrente superiore ora eseguiamo un test dinamico con il sic in un ambiente abbastanza stressante ossia dove la tensione ai capi di drain source può diventare molto elevata faremo questo test dinamico con fuochi d'artificio appunto genereremo delle scariche elettriche e quindi il mosfet verrà sottoposto a degli stress lo schema è abbastanza semplice generatore di funzione piccolo amplificatore per dare un livello tale a questo segnale da poter accendere il mosfet questo un piccolo amplificatore economico in classe d che tirerà fuori una forma d'onda alternata quindi una v più v meno per renderla compatibile con il mosfet la raddrizziamo tramite un diodo e poi non scordiamoci di mettere la resistenza qua perché il diodo è vero che fa passare le semionde positive ma se non avessimo nulla qua avremo che non torneremo bene a zero nel senso che quando il diodo taglia poi la tensione non andrebbe a zero invece con questa resistenza in a la tensione va a zero e avremo una bella forma d'onda squadrata per pilotare il mosfet alimentiamo con 12 volt un trasformatore molto sbilanciato ossia con un rapporto spirito elevato cosa succederà che il mosfet quando va in conduzione magnetizza questo trasformatore poi di botto viene spento la corrente che ha magnetizzato il nucleo non può interrompersi istantaneamente quindi il campo magnetico per collassare farà in modo di creare una sovratensione veramente elevata già a questo lato primario nonostante che alimentiamo con 12 volt avremo delle sovratensioni molto elevate al secondario con un questo rapporto spire molto elevato questa tensione sarà ancora più elevata e sarà in grado di innescare una piccola scarica qua fra gli elettrodi alimentiamo dunque con questo generatore di funzione tre volte remesse in onda quadra la frequenza la potremmo stabilire qui partiamo da una frequenza bassa 700 hertz e poi potremmo salire per amplificare il segnale in uscita dal generatore di funzione questo amplificatore cinesino che ci permetterà di raggiungere dei livelli di 12 15 volt tali da poter accendere il mosfet in uscita dall'ampli andiamo al nostro mosfet inserendo un diodo 1n 4148 e una resistenza da 100 ohm fra gate e source come abbiamo visto a schema il mosfet sul drain pilota direttamente il primario di questo trasformatore in ferrite con un nucleo pm 50x39 quindi bello abbondante sul secondario ho fissato due pezzettini di stagno così potrò deformarli per bene e saranno i nostri elettrodi dove avverrà la scarica questa è l'uscita del nostro amplificatore audio quindi prima del gate come previsto è una forma d'onda alternata v più v meno alla frequenza appunto impostato dal generatore di funzione questa è la forma d'onda dopo il diodo senza la resistenza collegata fra gate e source se inserisco la resistenza ecco la mia bella forma squadrata 0 più con un'ampiezza di circa 10 volt che è sufficiente per accendere il nostro mosfet se agisco sul controllo toni dell'amplificatore in o audio ovviamente la forma d'onda si e si deforma quindi teniamolo bello inchiodato per avere una forma d'onda quadra 0 più per pilotare il mosfet mi posiziono con la sonda al primario del trasformatore diamo alimentazione con molta cautela è perché il rapporto spira è molto sbilanciato quindi la tensione decollerà andiamo ad esempio a un volt con un volt di alimentazione al primario qua sono a 50 volt di visione con l'oscilloscopio ho 200 volt di picco quindi ho questi spike molto rapidi che sono dovuti appunto allo spegnimento improvviso del mosfet la bobina si arrabbia e tira fuori questa extra tensione quasi 200 volt chiaramente siamo a vuoto e siamo al primario al secondario abbiamo secondo me una tensione che è circa 10 volte tanto perché il rapporto spira è di circa 10 diamo un altro volt di alimentazione tacchete ecco siamo usciti fuori scala siamo circa 380 volt al primario e si sente già il suono di questi 700 hertz comincia al secondario essere una tensione interessante due volte 320 miliampere assorbiti potenza 0 6 watt quindi una potenza bassa però con delle tensioni interessanti ho tolto tensione ho scollegato la sonda dell'oscilloscopio perché sono tensioni che cominciano ad essere pericolose per lo strumento avviciniamo i due lembi di stagno vicini qua queste due palline in modo da creare una piccola distanza in aria ho tolto la limitazione in corrente quindi fino al massimo previsto 3 ampere e adesso andiamo su in tensione 1 volt 2 volt come prima 3 volt ecco già 4 volt ecco che comincia la nostra scarichina 5 volt 1 ampere 1 quindi potenza abbastanza bassa vedete che con una tensione così bassa in alimentazione siamo già in grado di realizzare la nostra scarica andiamo su diamo energia 7 8 molta corrente ma questo ci permette comunque di allontanare le due punte ecco qua possiamo anche scendere un pochino tanto la tensione sufficiente per mantenere l'arco variamo la frequenza qua 600 hertz 500 andiamo verso il basso andiamo verso l'alto un kilohertz è svanita la cosa sorprendente è che il transistor ragazzi è tiepido quindi riesce a sostenere alte tensioni nessun problema un mosfet normale probabilmente sarebbe già saltato per aria bene e con questo termina il video direi che questi mosfet si prestano molto bene per realizzare un controllo elettronico di una bobina di tesla tipo drs stc sono molto curioso di metterli in campo io intanto vi ringrazio per avere visto il video come sempre se vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao